Ciao a tutti, benvenuti nella mia cucina, io sono Meryl. Oggi sono stata in pescheria e ho comprato questi bellissimi gamberi grigi. Adesso devo anche pulirli. Voglio farvi un breve tutorial su come io li pulisco. Per prima cosa io uso dei guanti monouso, così non mi rimane l'odore del pesce tutto il giorno. E poi mi servirà anche un coltellino ben affilato. Poi vi farò vedere perché. Allora, cominciamo! Per prima cosa togliamo il carapace. Partendo dalle zampette, tirate i lembi accompagnati lungo il corpo. Se si dovesse rompere, nessun problema, ricominciate. Arrivati alla codina, tirate con un po' più di forza per sfilarla. Prendete il coltello e incidete il dorso del gamberetto. Fate poi lo stesso anche nella pancia. Una volta fatte le incisioni, possiamo sciacquare sotto l'acqua corrente per pulire dall'intestino il gamberetto. Fatto questo, potete essere sicuri di avere davvero pulito il vostro gamberetto. Ed eccoli qua, belli puliti! Avete visto? Non è complicato, ci vuole solo un po' di pazienza e un po' di tempo. Una volta che li avrete puliti, potrete utilizzarli subito oppure suggerarli per un'altra volta. Spero di esservi stata di aiuto. Alla prossima, ciao! Ciao! Alla prossima, ciao!